ciao sono rosario marulli vengo da palermo ma adesso vivo a milano l'installazione che mi è piaciuta di più era un attimo che mi ricordo allora or color reflection mi piaceva molto per il gioco di luci e il gioco di riflessi appunto che c'era nell'installazione il mio artista preferito è Monet in generale mi piace molto per l'uso dei colori e delle pannellate che ha nelle sue opere e una delle artiste che mi piace di più in questa esposizione è Liz West Grazie a tutti